Beni per oltre un milione di euro sono stati sequestrati dalla DIA di Reggio Calabria all'ex deputato di Forza Italia Medeo Matacena, l'altitante a Dubai, dopo una condanna definitiva a tre anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. Il provvedimento è stato emesso dai giudici del Tribunale di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, secondo i quali, riassumendo quanto emerso nelle inchieste Olimpia 2 e 3, Matacena era il politico prescelto dalle cosche per salvaguardare i loro interessi. Matacena è coinvolto nell'inchiesta Breakfast, nell'ambito del quale sono stati arrestati, tra gli altri, l'ex ministro dell'interno Claudio Scagliola e la moglie di Matacena, Chiara Rizzo. Per i giudici appare sostitere quella condizione di pericolosità che legittima la prensione di tutte le componenti patrimoniali ed utilità di presumibile e illecita provenienza, delle quali non risulti giustificato il possesso. Sequestrate disponibilità bancarie e finanziarie riconducibili a Matacena, alla moglie e dai figli e un fabbricato intestato ad una società con sede a Miami.